Il Padre Pio Si fidano, si fidano e vedono la sua santità non come l'esclusiva di qualcuno che ha vissuto in un contesto straordinario, fatto di miracoli, di visioni e che quindi non ha nulla a che fare con coloro che vivono tante esperienze, tanti limiti, tante potremmo dire fragilità, anche nel peccato. No, Padre Pio è un fratello maggiore che non mette in difficoltà nessuno, che non fa sentire nessuno abisaggio. È come quando un giorno era qui a San Giovanni Rotondo nel confessionale ad ascoltare i peccati, ad incoraggiarli per allontanarsi quanto più possibile dagli errori, dalle cadute, dalle infedeltà. Ecco, in questi giorni, in questo modo vogliamo risentire vicino Padre Pio e lui pian piano ci darà la possibilità di avvicinarci al Signore. Pian piano, come lui ha già vissuto e già vive, un giorno avremo la possibilità di ritrovarci nella casa del Signore per vivere con lui per sempre la beatitudine che il Signore darà a ciascuno di noi. Grazie. Grazie.